Oggi seconda prova della maturità, hai un messaggio, cosa ti ricordi della tua? Poco, perché sono passati tanti anni e mi ricordo tanta emozione. Per me forse lo step più difficile è stata la terza prova, quindi sarà forse l'esame più tosto, ma è un po' quella un po' temuta da tutti, quindi è un po' più temuta da tutti, quindi è un grandissimo in bocca al lupo. Grazie.